È un partner che sta cambiando, che sta assumendo un profilo contrariamente rispetto all'inizio, più esplicitamente europeista e questo credo sia un bene per il quadro politico nel suo insieme. Dopodiché si tratta di temi che dividono trasversalmente l'arco delle forze parlamentari. In questo caso mi pare che la stragrande maggioranza abbia optato per una strada che, come abbiamo visto, divide anche il gruppo del Movimento 5 Stelle anche a livello europeo.